in che senso scusa ci sono quattro persone lì da te che stanno guardando a me ne dà ancora uno salve chiunque voi siate io ne vedo quattro ah ok bene meglio vabbè benvenuti ora me ne dà tre addirittura sei ho raggiunto sei spettatori mi sembra mentre facevo dark source ho perso le sei no 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 Grazie a tutti. 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 Ah, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io ne vedo sei. Ah, anch'io sei adesso. Dal telefono. Da Streamlabs ho ancora quattro. Va bene. Benvenuti a tutti. E se ci siete già... Se ci eravate già. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un'altra... E' un'altra... a star deal jobless